alza le mani che non ti succede niente sta bene vai si è sardita la cassa sbrigati si è sardita la cassa si è sardita la cassa sbrigati non mi guardava andiamo andiamo ma stai guardando vai lascia la porta lascia la porta tranquillo sei tranquillo non 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 Sergio, 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 Sergio. Sergio, 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 Sergio. Sergio, 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 Sergio Allora, Mattei, sono cambiate un sacco di cose, il maresciallo dovevi ricordare? Ma sentite, chi è? Quello che quando stava militare ha messo le mani sul deposito delle armi. Di Lazzaro? Ah. Ma adesso chiamare il maresciallo, se vede che ha sbattato. Ha sbattato sì, ma controlla tutto lui. Droga, mignotto dell'est, racket, c'ha tutto un mano lì. Abbiamo parlato di te, gli abbiamo detto che oggi uscivi dal gabbio. Ha detto, oh, portatemelo. Se ne parla, regà. De che? Ho chiuso, non voglio più sapere, de che?